Digimony a rapporto e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui per dirvi le mie prime impressioni su Knockout City che è il nuovo gioco fresco fresco sviluppato e pubblicato da Electronics Art ed è disponibile per tutte le piattaforme esistenti Ho fatto pochi video ultimamente ma se mi seguite su Instagram saprete sicuramente cosa è successo e non è stato un bellissimo periodo per me quindi diciamo che ho dato priorità ad altre cose al posto che YouTube però comunque bene o male ho cercato di pubblicare qualcosa anche perché in realtà io oggi dovevo fare un video diverso ma non è arrivata la Collector di Biomotant e quindi è saltato Digimon ce la farà avere le robe per il day one? No Tra l'altro arriverà anche il video della Collector di Nier Replicant ce l'ho esattamente qui dietro però non ho avuto proprio il tempo per farlo appunto perché è stato un periodo veramente impegnativo ma magari di questa cosa ne parleremo in un prossimo video continuiamo con quello che vi volevo parlare oggi appunto di Knockout City che è uscito il 21 maggio 2021 e dal momento su PC è disponibile gratuitamente fino al 30 di maggio ed è una cosa fantastica perché infatti io ho avuto occasione di provarlo proprio per questo motivo qui perché il gioco sinceramente ha un prezzo di 20€ per quanto riguarda la Standard Edition mentre di 30€ per quanto riguarda la Deluxe Edition tuttavia però per chi fosse interessato ad acquistarlo durante questo periodo di prova se noi lo acquisteremo avremo inclusi un tot di oggetti aggiuntivi che non potremo avere in nessun altro modo ovvero un outfit epico Cyber Spike la capigliatura epica Locked Orbs gli occhiali epici Led The Way l'aliante epico Mac 1 la posa di introduzione epica Culling ve lo scrivo scusate lo sapete che io con l'inglese non ci vado d'accordo va bene l'effetto KO by the horns le icone del giocatore Bomb Ball Pixel Dillo Noodles Gone Bad e 500 Holobux che per chi non lo sapesse è la valuta di gioco se vi devo dire la verità e se avete visto i miei precedenti video dove appunto lo hanno annunciato il gioco non è che mi entusiasmasse tanto anzi a dire la verità proprio per niente mi sembrava al solo l'ultima uscita No Sense alla Fortnite o alla Rocket League che non è un genere che fa per me sinceramente è anche un po' scontato per quanto riguarda l'idea di fondo infatti non avrei mai pagato nella mia vita 20 euro per giocare questo titolo o solo per provarlo se sto facendo questo video bisogna ringraziare dei miei amici che appunto vedendolo gratuito sulla piattaforma di Electronic Arts ovvero Origin che io odio con tutto me stesso perché è veramente brutta mi hanno chiesto di provarlo e nella realtà rifatti effettivamente l'ho provato molto contro voglia ma per fortuna che l'ho provato perché vi giuro ci sono rimasta male in senso positivo partiamo dal principio Knockout City prevalentemente è un gioco online diciamo che per sfruttare al meglio il gioco è quello di giocare online contro altri giocatori io l'ho provato con i miei amici che appunto essendo in 4 non potevamo fare le partite online perché per giocare online sarà necessaria una squadra di massimo 3 giocatori e non di più con ciò però non significa che se siete soli in 2 o appunto da soli non potete giocare assolutamente no vi verranno assegnati altri giocatori di squadra a seconda se sarete in singolo o sarete in 2 come in un qualsiasi gioco multiplayer a squadre questa cosa era meglio specificarla perché magari qualcuno non lo sa in pratica noi dovremmo giocare a dodgeball in squadre da 3 persone come appunto in Rocket League anche se in realtà in Rocket League in teoria si può giocare anche in 4 ovviamente a chi non piace il dodgeball? a me devo dire però che nonostante a me non piaccia né come sport e né come tipologia di gioco online il gioco è stradivertente si è giocato ovviamente con le persone giuste e non con il tossicume ci si diverte veramente un casino e sinceramente si muore dalle risate io tutta quella sera non ho smesso di ridere ovviamente come ho detto all'inizio è un gioco che deve piacere se ad uno non piace questa tipologia di gioco e non piace giocare con altre persone a caso online nel caso non avesse appunto amici è meglio lasciare perdere anche perché comunque il gioco dispone di una chat vocale in game che sinceramente appunto non avendo giocato online non credo vada anche con i giocatori dell'altra squadra probabilmente si però non ve lo so dire e se beccate il tossicume non deve essere proprio divertente giocarci la grafica è molto allegra e colorata a primo impatto e sinceramente ricorda tantissimo ahimè Fortnite infatti credo che si siano ispirati un pochino ma un pochino tanto per certe cose anche le mappe per quelle che ho provato io nonostante siano molto molto carine sono anche molto diverse tra loro e pure le varie modalità che sinceramente ho apprezzato parecchio la cosa che ho apprezzato meno è appunto la meccanica della squadra a tre giocatori infatti sinceramente infatti mi sono limitata purtroppo a giocarlo solo offline a partita chiusa perché eravamo appunto i quattro che vi avevo già detto ma questo non significa che il gioco sia brutto o faccia schifo semplicemente è limitata se vi trovate con un gruppetto di amici superiori a tre tipo cinque perché nelle private ad esempio non potrete fare un tre contro tre perché non è possibile fare un tre contro due perché le squadre sarebbero appunto sbilanciate però la stessa cosa si potrebbe dire di un gioco con una squadra limitata a quattro o a cinque o addirittura a sei quindi questa sinceramente è una mia considerazione che avrebbero potuto fare delle modalità con più squadre nel senso con un numero di giocatori diverso come appunto ha fatto Rocket League che ha implementato la squadra a quattro giocatori per quanto riguarda le varie modalità io al momento non le ho provate tutte però vi posso elencare quelle che effettivamente ho provato l'unica modalità che appunto non ho potuto provare è la partita online e tutta la sua categoria per quanto riguarda le modalità di gioco avremo la modalità strada che sarebbe praticamente una partita leggera tranquilla con la meglio su tre round avremo la modalità duello che consiste nell'uno v su uno sul meglio sempre di tre round e a differenza di altre modalità qui non avremo le palle speciali il team KO o team KO doppio dove noi dovremo fare un tot di KO nella squadra avversaria per vincere e anche qui è sempre sulla meglio di tre round team KO party che a differenza della modalità prima avremo disposizione solo le palle speciali e non la normale e ovviamente la prima squadra che effettuerà 10 KO vince con la meglio sui tre round e la modalità caccia ai diamanti dove noi dovremo raccogliere tot diamanti prima della squadra avversaria diamanti che verranno lasciati a terra dai vari KO anche questa modalità avrà la meglio su tre round devo dire che tra tutte le modalità io ho preferito la modalità diamante come appunto gli altri miei due amici e Boris quindi diciamo che noi ci siamo sfondati su caccia ai diamanti che in ogni caso non ha nulla da togliere alle altre modalità soprattutto alla team KO party che sinceramente ho trovato molto simpatica e molto divertente avremo anche una sezione di allenamento dove noi potremmo allenarci e affilare la nostra tecnica di gioco le meccaniche a prima impressione non mi sono apparse male anche se appunto tornando al discorso di Fortnite diciamo che ha copiato l'aliante che io sinceramente ho odiato e continuo a odiare tantissimo perché lo trovo scomodo e lento però non posso dire lo stesso dello scatto e delle varie schievate che avremo disponibili finché il gioco rimarrà gratuito lo giocherò e valuterò poi in seguito se acquistarlo o meno sinceramente mi frena non poco il fatto che costi 20 euro magari una volta in sconto che so a 10 euro perché no sicuramente non è quel gioco dove io acquisterei la deluxe edition ma sono contenta che Electronics Hearts abbia messo questi 10 giorni gratuiti perché appunto hanno portato una persona come me che non era interessata minimamente al titolo a provarlo e gli è piaciuto pure in sintesi sì mi è piaciuto tanto e mi sono divertita con i miei amici ma non è quel titolo che amo o amo ero alla follia è un titolo divertente con cui farsi qualche risata in compagnia e svagare dalla lunga giornata di lavoro piena di impegni ovviamente tralasciando il tossicume perché se bisogna giocare con tutto il tossicume addosso non sarà assolutamente divertente quindi vi consiglierei di cerchiarvi di amici e di giocare con loro non con gente a caso online perché potrebbe risultare un po' stressante se appunto anche questo gioco si ritroverà con una community abbastanza tossica come nella maggior parte dei giochi online devo dire che è stato veramente una sorpresa a questo titolo fammi sapere con un commento qui sotto se tu lo hai provato se hai intenzione di provarlo se magari l'hai acquistato sulla fiducia se hai preso la standard della deluxe così da scambiare quattro chiacchiere in compagnia qui sotto per fortuna grazie a questi amici l'ho potuto provare e devo dire che è divertentissimo non è quel gioco appunto che giocherai tutte le sere o che appunto come ho già detto andrò a amare o quel gioco con cui mi ci fisserò e giocherò solo a quello perché appunto come sapete io preferisco molto di più i single player con una bella narrazione dietro però non è comunque un gioco che scarto perché è carino a prima impressione perché io purtroppo l'ho giocato solo per due o tre orette al momento poi non ho più avuto occasioni di giocarci appunto come ho detto all'inizio video per il brutto periodo che ho passato però devo dire che per quelle due o tre ore il gioco è veramente veramente divertente intanto io ogni tanto sto guardando l'icona di gioco non lo so perché così così spero che questo video ti sia piaciuto e che ti abbia tenuto compagnia e come in ogni video se i miei video ti piacciono iscriviti al canale lascia un mi piace un commento ma soprattutto seguimi su instagram e su sito viola troverai link in descrizione come in ogni video ma cosa più importante se i miei video ti piacciono condividili con amici parentesi social per evitermi a far crescere questa piccola commenta a cui tengo tanto e per supportarmi non prendete questo video come recensione o una cosa del genere perché effettivamente non lo è sono veramente le mie primissime impressioni sul gioco non penso ci farò un cosa ne penso perché non no non mi va di farlo su questo gioco sinceramente ma al momento nelle prime ore di gioco non è che ho notato chissà quali difetti cioè l'unica cosa bisogna prendere un po' di fiducia con i comandi e io avendolo giocato con tastiere e mouse posso dirvi che effettivamente all'inizio può risultare un po' difficile soprattutto perché i tasti saranno molto vicini tra di loro e non saranno neanche così tanto pochi perché oltre al control avremo altri due tasti che ognuno sarà una schivata diversa e all'inizio andare a premere come appunto andare a premere il control che c'è anche lo shift per la corsa è veramente difficile forse su controller avendoli più come posso dire non mi viene la parola più concentrati ce l'abbiamo tutto nel controller forse risulterà un po' più semplice come appunto per Rocket League che molti si trovano molto meglio su controller ovviamente è un fatto soggettivo quindi dovete vedere voi come vi trovate meglio tipo io su Dark Souls gioco con tastiere e mouse quindi mi raccomando fammi sapere qui sotto cosa ne pensi e noi ci vediamo in un prossimo video in una prossima live o appunto su Instagram dove vi tengo aggiornati sulla mia vita noiosa e dove vi mostro la mia collezione Digimony passo e chiudo ciao